Buonasera a tutti, buonasera, bentornati alla consueta diretta del giovedì sera sui canali di ProItalia. Un saluto come sempre dal sottoscritto Matteo Brandi e da Ludovico Vicino, entrambi appartenenti alla Secretaria Nazionale di ProItalia. Diamo il bentornato al nostro amico Paolo Borgognone. Ciao Paolo. Buonasera, grazie a Ludovico, grazie a Matteo. Un saluto a voi, un ringraziamento naturalmente a tutti coloro che ci seguono. E intanto ci stanno raggiungendo in chat, ma cominciamo perché, vedi Paolo, noi abbiamo una tradizione qui sulla nostra diretta. All'inizio abbiamo sempre un acronimo, perché abbiamo un nostro ascoltatore che ci regala sempre un acronimo, Luigi, e questa volta lo ha fatto sulla parola acronimo. Questa è nuova, questa è nuova. Luigi Negro, l'acronimo Negro, lo dico all'algoritmo, è il cognome, è il cognome, ok, va bene. E l'acronimo è appunto acronimo. Attitudine che riconverte ogni nome in mimetiche, oblique, narrazioni esileranti, giravolte, ruggenti, obiezioni. Eh, vedi, questo non era facile, non era facile, Luigi, complimenti, complimenti. Intanto ci stanno raggiungendo gli altri in chat. Io spero che sia partita la diretta su tutti i canali, perché ultimamente ci vanno... Ecco, ecco, stanno arrivando tutti adesso. Ciao Francesca, ciao Alessandro, ciao Andrea. Allora, lo dico a chi ci sta raggiungendo adesso, prima di cominciare, che siate su Facebook, su X, su YouTube. Dovete fare due cose tassativamente o entra la Fonderlion a casa vostra. Uno, mettere mi piace e due, condividere questa diretta ovunque voi vi troviate, ok? Se no, entra veramente la Fonderlion, la Lagarde e Mario Draghi a casa vostra, tutti vestiti in maniera succinta, peraltro. Ecco, quindi, specie Draghi, specie Draghi. Lui è quello più succinto di tutti, guardate. Ecco, vabbè, le reazioni, le reazioni. Ciao Carla, ciao Carla. Fra altro, permettimi Matte, probabilmente, Paolo, hai anche incrociato di persona Luigi, Luigi Negro, che ci scrive i suoi acronimi all'inizio e durante ogni nostra diretta, perché lui è uno dei nostri militanti di Torino, e quindi probabilmente lo hai incrociato qualche volta che abbiamo fatto qualche evento, anche insieme, insomma, lì, dalle parti di Via Alba e similari. Sicuramente. Peraltro ti informo che Francesca Regonesi ci scrive che la sezione di Pro Italia di Bergamo domani sera sarà al convegno di Borgognone a Bergamo. Grazie. Ti verremo ad ascoltare e a supportare. Allora, ripeto, anzi, torniamo all'argomento con cui abbiamo cominciato questa diretta. Il titolo, lo vedete, noi tendiamo sempre un po' questa ironia, che è l'ironia di chi prende atto dell'aspetto effettivamente tragicomico del momento che stiamo vivendo. tragico, perché siamo purtroppo sempre sull'orlo dell'abisso, balliamo su questo orlo, però comico perché questa parte di mondo, e qui vorrei tanto sapere ciò che ne pensa Paolo, proprio da storico, questa parte di mondo è quella che più in assoluto si è bevuta, la storiella della fine della storia, no? Gli europei in primis con la caduta del muro di Berlino hanno creduto fortemente che tutto sommato ormai non vi fosse più alternativa, da una parte al capitalismo made in USA, dall'altra alle liberal democrazie, insomma ormai vi fosse un'unica strada, quella verso la globalizzazione selvaggia, e che qualsiasi deviazione fosse impensabile. Al massimo fosse possibile in qualche modo dipingere il guardrail di un colore diverso, fare magari delle soste, ma la strada doveva essere sempre solo quella. E poi che è successo? È successo che invece la storia non ha mai smesso di andare avanti, e oggi sta bussando alle porte dell'Europa. E proprio coloro che fino all'altro ieri ci dipingevano appunto le magnifiche sorti progressive come l'unico modo di intendere il futuro, stanno tentando di cambiare un paradigma non solo economico, politico, ma anche narrativo. Cioè cercano di inculcare piano piano nella testa dei più postodici cittadini del mondo l'idea che tutto sommato sì, potrebbe anche esserci una guerra. Potremmo anche dire addio al benessere che, tanto questi signori hanno eroso alla grande negli ultimi anni, ma diciamo che quella innocenza, come l'ha chiamata la von der Leyen, potrebbe finire. E ti faccio vedere, Paolo, questa bellissima dichiarazione della dolce Ursula, europee von der Leyen lancia la corsa al bis, perché purtroppo potremmo ritrovarcela la seconda volta, però c'è anche un'altra possibilità, poi magari ne parleremo Ludovico. La guerra non appartiene al passato, dice Ursula, sulla difesa non può esserci ritorno all'innocenza. Quindi c'è anche questo uso orwelliano delle parole. L'innocenza sarebbe nient'altro che la pace, ecco, o la diplomazia per cercare la pace. Allora, cominciamo da qui, Paolo. L'Europa nella palute post-storica che improvvisamente deve fare i conti con la storia stessa, ma va contro la sua stessa propaganda che ha portato avanti in questi anni. Tu come la vedi? Grazie. Ma l'innocenza di chi? Quale innocenza? Cioè l'innocenza dell'Unione Europea, l'innocenza del Patto Atlantico, queste non sono sovrastrutture o strutture di governance, multilivello, militari, politiche, economiche, psicologiche, innocenti. Per niente. Noi abbiamo ricordato, anzi, tu hai meritoriamente ricordato il caso emblematico del 1989, la fine del muro di Berlino. Il crore del muro di Berlino è la supposta fine della storia, che non ci fu naturalmente, però quel periodo, io lo ricordo anche personalmente, ero un bambino ma non ero completamente così alienato da ciò che accadeva nel mondo, ricordo perfettamente come fu accolto dal punto di vista dei media e dell'opinione pubblica anche quell'evento, che fu l'epilogo di una lunga preparazione psicologica, mediatica, politica, culturale, gli anni Ottanta, no? Gli anni Ottanta chiunque se li può ricordare, o chiunque li ha studiati, io cerco anche nei miei lavori di focalizzare proprio l'attenzione su questo decennio, sugli anni Novanta, non perché ne sia un nostalgico, ma perché sono anni centrali, tutta la vulgata degli anni Ottanta è stata propedeutica a preparare l'opinione pubblica a una sorta di ubriacatura liberale, e questa ubriacatura liberale è stata poi coronata dal buffone Gorbaciov con la sua moglie, con quegli odiosi, orrendi cappellini che si recavano vestiti con abiti francesi, abiti di sartoria francese presso le cancellerie occidentali per farsi riconoscere come dei loro, come degli occidentali, infatti Reagan quando vide Gorbaciov la prima volta, nelle sue memorie ricorda, Reagan ha scritto le sue memorie, ricorda, io pensavo di trovarmi di fronte un burocrate vestito come un bolshevico, mi trovai di fronte a una sorta di damerino vestito all'occidentale, tutto griffato, e dissi bene questo ci venderà tutto. E fu esattamente così. La Thatcher, la prima volta che vide Gorbaciov, Gorbaciov non era ancora segretario generale del PQS, era al gennaio del 1985, era Cernienco il segretario generale, ma era morente, Gorbaciov incontrò la Thatcher, la Thatcher parlò con lui, ebbe un incontro, lui comunque era il successore designato, Gorbaciov era già il successore designato di Andropov, poi ci fu un contenzioso all'interno del Politburo e venne eletto Cernienco, che però si sapeva già che stava male. E quando Gorbaciov incontrò la Thatcher, la Thatcher poi disse, beh, con quest'uomo potremmo fare buoni affari, e in effetti gli affari si fecero. il secondo quinquennio, la seconda parte degli anni Ottanta, champagne, cioè erano gli anni dell'edonismo reganiano, l'Unione Sovietica stava crollando, c'era la gorbimania nei paesi europei, dove tutti speravano che questo leader avrebbe portato una nuova palingenesi democratica, e un benessere assoluto, eccetera, eccetera, e poi l'abbiamo visto fare la pubblicità per Louis Vuitton, Pizzat e via dicendo. Ah, e perché faceva la pubblicità per Pizzat e per Louis Vuitton? Perché poi c'è anche questo retroscena, no? Dopo il 1991 Gorbaciov rimane disoccupato. Dopo il 25 dicembre 1991, chiude il baraccone sovietico, si ammina la bandiera rossa con la falce e martello del Cremlino, viene issato questo posticcio tricolore russo, che poi fu anche cambiato nel 93, perché quello che hanno issato nel 91 non si capiva dove l'avevano preso, non aveva nessun tipo di tradizione storica con la Russia, e Gorbaciov rimane disoccupato. E per mandare avanti la sua fondazione, la fondazione Gorbaciov, che fu una sorta di avamposto della socialdemocrazia occidentale in Russia, ecco abbiamo anche Francesco Lombardo. Saluti, abbracci. E beh, ma questa è la prova approvata, che Francesco Lombardo non siamo né io né tu Matteo. Io le mani le ho qui, eh? Senza mani, senza mani. Può essere Ludovico, può essere Ludovico. E poi è stato zitto, infatti. È tra gli indiziati, è tra gli indiziati. No, vabbè. Adesso si collegherà anche lo spirito santo, immagino, toscano proprio, si collegherà e verrà anche lui a tenerci in compagnia. Manca solo più. Chissà, chissà. Il mio lì più imitatore. Però detto questo, la fondazione Gorbachev aveva bisogno di un sostegno economico importante. E Gorbachev dovette ricorrere a questi escamotage delle pubblicità dei marchi occidentali che erano sbarcati in Russia. Questi marchi occidentali erano sbarcati in Russia tra il giubilo collettivo, soprattutto a Mosca e a Leningrado, che divenne, tornò a giugno del 1991, San Pietroburgo dopo un referendum. Pensate che quando aveva aperto il McDonald's a Mosca il 31 gennaio del 1990 e ci fu una festa collettiva, ci furono code chilometriche per poter accedere a questa catena di fast food, i ragazzi sovietici, 15 anni, 16 anni, 18 anni, insomma, appena diplomati, rinunciavano a proseguire agli studi per andare a lavorare da McDonald's perché faceva figo sostanzialmente, se posso usare questo termine molto colloquiale. Era una sorta di promozione sociale autopercepita. Pensate quando 31 anni dopo, 32 anni dopo, nel febbraio del 2022, McDonald's ha lasciato la Russia. Per dire come è cambiata la mentalità, non ci fu una tragedia collettiva, non si sono strappati le vesti, non ci furono suicidi di massa. Tutto passò nell'indifferenza sostanziale dei russi. Pensate com'era cambiata l'opinione pubblica russa, smaltita l'ubriacatura, la sbornia liberale, che poi la possiamo, e si può evincere, testimoniare, ravvisare nella figura stessa dell'uomo che ha rappresentato questa sbornia vera e proprio, Boris Yeltsin, amante del bere, personaggio guascone, personaggio comunque in un qualche modo emblematico di quella transizione e di quella catastrofe, vissuta però in maniera, appunto, tragicomica. Yeltsin fu un personaggio in gran parte tragicomico nella sua postura, nella sua posa, nei suoi modi, nelle sue gaff. L'incidente all'aeroporto di Shannon in Irlanda, quando non riuscì a scendere dall'aereo, perché è troppo ubriaco, e col premier irlandese sulla pista, insieme ai dignitari di Stato irlandesi, che lo aspettavano e non lo videro scendere dall'aereo, i funzionari russi conferirono col premier irlandese, e gli dissero che non c'è niente da fare, il presidente, per motivi di stanchezza, eccetera, eccetera, non può scendere. Il premier irlandese allora replicò posso salire io almeno per salutarlo? No, no, neanche quello, cioè non era proprio presentabile. Alla fine Yeltsin arriva a Mosca, in condizioni improponibili, viene intervistato a Mosca e con la bocca impastata e il fare palesemente poco lucido, e dice no, non è successo nulla, io stavo dormendo e i miei collaboratori si sono dimenticati di svegliarmi. Ecco, quella era la Russia che piaceva all'Occidente, una Russia di fatto decapitata politicamente, guidata dagli oligarchi, col governo indiretto dagli oligarchi, Boris Berezovsky, Vladimir Guszynski, Mikhail Khodorkovsky, Vladimir Potanin, eccetera, eccetera, Smolenski, Piotr Haven, li chiamavano il gruppo dei sette banchieri. Era una sorta di assimilazione, paragone storico, col gruppo dei sette oligarchi, dei sette boiardi dell'epoca dei torbidi, dell'epoca dello zar Boris Godunov e dei torbidi, che controllavano la Russia, che infatti questi sette boiardi di fatto svendettero l'impero russo alla Polonia. E i sette banchieri, il gruppo dei sette banchieri degli anni 90, di fatto svendette la Russia agli Stati Uniti, al blocco occidentale. Tant'è vero che quando Putin, che comunque è un uomo politico, che viene dall'interno della classe dominante russa post-sovietica, viene dal clan di Leningrado, di San Pietroburgo, la politica russa è divisa sostanzialmente in tre grandi clan. Il clan di Mosca, che è quello che faceva riferimento a Yuri Lushkov, il sindaco di Mosca dal 1991 fino agli anni 2000, e per un certo periodo anche all'ex premier Evgeny Primakov, figura importantissima. Secondo me, per capire la storia della Russia degli anni 90, bisogna studiare a fondo la figura di Evgeny Primakov, Evgeny Maximovich Primakov, che fu direttore dei servizi segreti per l'estero, ministro degli esteri, presidente del Consiglio dei Ministri, il tutto tra il 1991 e il 1999, una figura cardine negli anni 90. La dottrina Primakov è tuttora, sebbene riaggiornata, molto riaggiornata dopo il 24 febbraio 2022, ma non ancora formalmente abolita o sostituita, è la dottrina che stabilisce le linee guida di politica internazionale della federazione russa, per cui Primakov fu una sorta di Kissinger russo o di Talleyrand russo, si potrebbe anche dire che Kissinger fu il Primakov americano, se non abbiamo una visione americano-centrica. E però il secondo clan è il clan di San Pietroburgo, che era legato e guidato dal mentore politico di Putin, Anatoly Sobchak, che fu sindaco di San Pietroburgo, tra l'altro la definizione sindaco di San Pietroburgo la utilizzò solo lui, perché poi dopo si chiamò governatore, quello di San Pietroburgo, fu il sindaco di San Pietroburgo tra il 91 e il 96, quando Putin era il vice-sindaco di San Pietroburgo. Nel clan di San Pietroburgo vengono anche i silovichi, cioè gli uomini della forza, dei servizi segreti, vicini a Putin, Viktor Cherkeshov, Sergei Ivanov, Nikolai Patrushev, e poi anche gli uomini civili, civili in senso che non indossa una divisa, i burocrati, come Dmitry Mevdeved, e Dmitry Kozak, che sono i principi, e anche Igor Sochin, che però è uno dei silovichi, anche lui. E poi il clan della famiglia. E la famiglia quale? La famiglia Yeltsin, ovviamente, guidato appunto da Yeltsin, negli anni 90, dal suo capo dell'amministrazione presidenziale, Voloshin, e da Valentin Yumashov, anche egli fu capo dell'amministrazione presidenziale, poi da sua figlia Tatiana Diacenco, nata Yeltsin, poi sposata, coniugata in Diacenco, che era un oligarca, e poi coniugata in Yumashov, come si vede, si faceva proprio tutto in famiglia, era veramente il clan della famiglia, e un altro esponente importante del clan della famiglia, ci sono anche altri per carità, fu, ed è tuttora, perché questo clan esiste ancora, Sergei Shoigu, il ministro della difesa. Infatti, perché Putin non può rimuovere il ministro della difesa? Perché il ministro della difesa è il garante dell'alleanza tra il clan di San Pietroburgo, il clan di Mosca, che comunque ora è rientrato, e anche il clan della famiglia. Negli anni 90, l'avvento di Putin in Russia, nel 1999, fu l'esito di una guerra tra gli epigoni di Yeltsin, lui nominava i suoi successori a stretto giro, li cambiava rapidamente, perché fu proprio un'operazione politica, operazione successore, in Russia ci sono state due grandi operazioni politiche che hanno determinato il cambio di passo negli anni 90, inizio 2000. L'operazione successore, guidata da Jumashev Voloshin e Gleb Pavlovsky, che fu un consigliere di Yeltsin, un ex dissidente che poi divenne un consigliere di Yeltsin, un uomo di Putin, poi disertò nuovamente, eccetera, eccetera. E l'operazione Luce Verde, nel 2001, che di fatto pose fine al dominio degli oligarchi, perché quelle due grandi operazioni portarono gradualmente alla transizione. Però, quando Putin, attraverso l'operazione successore, si impose come epilogo di questa guerra tra gli epigoni e guerra tra gli oligarchi, Berezovsky, che appoggiava la fazione di Yeltsin, e Gushinsky, Berezovsky, capo della magnate dei media e della TV privata ORT, e Gushinsky, capo della TV privata NTV, ebbene, uno, Gushinsky appoggiava Lushkov e Primakov, ne uscì vincitore, ovviamente, il clan della famiglia, in alleanza con il clan di San Pietroburgo, e sconfitto il clan di Mosca, che poi, in parte, rientrò nei ranghi, tant'è vero, che poi Primakov, che nel 1999, aveva chiesto a Sergei Stepashi, nel primo ministro, il licenziamento di Putin, da direttore dell'FSB, non l'ottenne, poi nel 2001, si riappacificò con Putin, che ormai era di fatto, in rotta, con determinati gruppi oligarchici, mentre invece, Primakov lo fu già, dai mesi precedenti, poi, vabbè, se vogliamo approfondiamo, comunque, la faccio breve, si riappacificarono, il partito di Primakov e di Lushkov, confluì nel partito, tra virgolette, di Putin, e ne venne fuori, l'attuale partito di governo, in Russia, Edinaia Rossia, cioè Russia Unita, che è quello con cui Salvini, oggi dice, io non ho mai avuto a che fare, però è quello, il partito Edinaia Rossia, tutta una storia, nasce come Edinstvo Unita, nel 1999, era proprio guidato da Shoigu, pensate, racconto ancora questo aneddoto, poi cedo la parola, perché ho parlato troppo, spero non a Vanvera, o non completamente a Vanvera, e nel 1999, i comunisti in Russia, erano dati al 33% dei voti, e se tu ti proclamavi liberale, come politico in Russia, ti prendevi un pugno in faccia, dopo il tracollo dei GKO, del debito sovrano russo, nel 17 agosto 1998, il liberalismo in Russia crollò, il regime di Yeltsin crollò in quel momento, però Yeltsin doveva salvarsi la pelle, e cercò una via d'uscita, cioè bisognava cercare di assicurare continuità e discontinuità nello stesso tempo, perché da una parte bisognava soddisfare le esigenze popolari di discontinuità, perché quei comunisti al 33%, e dall'altra parte bisognava cercare di salvaguardare, perlomeno le ricchezze, la cleptocrazia del regime uscente. E allora Yeltsin cosa fece? Cercò di mettere in piedi il terzo partito del potere in meno di dieci anni, i primi due erano falliti completamente, il terzo questo unità affidato a Shoigu. Primakov, che era l'uomo più potente del paese, in quel momento anche più influente, più popolare, aveva costruito il suo partito, che era dato al 23%, cioè i comunisti e prima avrebbero avuto la maggioranza alla Duma alle elezioni del dicembre 99. Il partito Edinstfo, quello che avrebbe dovuto appoggiare Yeltsin e preparare la successione a Putin, era dato al 7% nei sondaggi, un tracollo. Allora, Yumashov e Voloshin, dissero, incaricati da Yeltsin, cerchiamo di convincere Putin a entrare in questo partito in modo da sollevarlo nei sondaggi. Tuttavia, un collaboratore di Putin, che si chiama German Gref, nato German Gref, tedesco, però una famiglia di tedeschi deportati in Kazakistan, però lui è russo, e che aveva lavorato a un centro demoscopico a Mosca, ma veniva dal clan di San Pietroburgo e poi fu ministro dell'economia con Putin, disse no, se Putin entra in questo partito, tanto schifo fa il liberalismo e il regime di Yeltsin ai russi, non solo il partito non aumenterà nei sondaggi, ma Putin, che attualmente è l'uomo più popolare del paese ed è lanciato verso la successione a Yeltsin, perderà rating elettorale, dunque non salveremo né capra, né cavoli con questa operazione. Dobbiamo cercare qualcos'altro. Allora Pavlovsky disse, vabbè cerchiamo di fare un compromesso, Putin non entra nel partito e non fa una dichiarazione di voto al partito come primo ministro, ma la fa come privato cittadino. Infatti Putin fece così, disse, beh io come primo ministro sono super partes e come privato cittadino però voterò per questo partito. Il partito, Unità ed Insfo, schizzò dal 7% al 23% nei sondaggi, raggiunse quasi i comunisti, che si fermarono al 24% alle elezioni reali, poi non so più nei sondaggi, e doppiò letteralmente il partito di Luskova e Primakov. E così Putin di fatto ebbe la strada spianata per avere una sufficiente e ampia maggioranza parlamentare, alla Duma, per poter così far passare anche le leggi in maniera più facile, e poi nelle elezioni del marzo successivo ottenne il 52% dei voti. Il suo sfidante, il comunista Zyuganov, si fermò al 29% ed era dato vincitore delle elezioni un paio d'anni prima, nel 1998, e così ha inizio di fatto la lunga presidenza di Putin, che ha segnato veramente lo sconvolgimento e la fine di tutte quelle illusioni liberali che si erano prodotte nel paese a partire dal 1991. Infatti, questa conversione politica, mentale, psicologica della Russia la si rispecchia anche nelle conversioni politiche di Putin, che passò dal comunismo al liberalismo e poi dal liberalismo al conservatorismo fino alla democrazia illiberale. In questo senso penso che Putin possa essere paragonato in qualche modo, se mi si permette, a una sorta di nuovo Costantino, che si converte a una nuova religione per rilanciare quella che è l'identità e anche la proiezione militare e geopolitica di uno Stato. Questo paragone con Costantino è interessante più che altro alla luce di quello che poi Costantino effettivamente fece, perché dovette reimmaginare anche lo Stato romano in funzione di questo nuovo credo religioso. Poi ovviamente fu una scelta soprattutto politica, ma non solo. E poi toccherebbe pensare lì quando si è avvenuto il Ponte Milvio della Russia, perché in realtà ne sono state più di una di battaglia di Ponte Milvio, soprattutto negli anni 90, ecco, perché come hai detto tu giustamente Paolo, c'è stata una resa dei conti per riequilibrare quelli che erano i pesi delle diverse famiglie, dei diversi clan, delle diverse compagini politiche, però ne è uscita fuori una Russia che a differenza della compagine europea, chiamiamola così, Unione Europea, però ovviamente sappiamo che non esiste come attore geopolitico l'Unione Europea, non potrebbe esistere neppure, la Russia è rientrata prepotentemente nella storia. Cioè, è uscita fuori da quell'ubriagatura, come l'hai chiamata tu Paolo, di stampo liberal occidentale, in cui il messaggio base era la storia è finita, e si è riappropriata di quelle di quelle basi, non solo politiche strategiche, ma anche culturali, per ritornare nella storia. E questo è un po' il percorso inverso rispetto a quello che ha fatto l'Europa, Ludo, perché noi invece siamo ancora nei postumi dell'ubriagatura post-caduta del muro di Berlino, però va detto che forse quella ubriagatura parte da molto lontano, cioè a prescindere da quello che comunque ha fatto la prima Repubblica in Italia, dove c'era gente tutt'altro che convinta che la storia fosse finita, però è un processo che comunque andava avanti da tempo, questo autoconvincersi che tutto sommato non vi fosse una reale alternativa, poi con le immagini di Berlino questa roba è entrata in testa prepotentemente con dopo con mani pulite ancora di più, cioè basta i giochi sono fatti e faccio leggo questa dichiarazione di Borrell e poi ti passo subito la parola Ludo Joseph Borrell l'ha detto agli esteri dell'Unione Europea che poi questa cosa fa abbastanza ridere perché l'Unione Europea non ha l'altro rappresentante per la politica estera ancora più ridere così in effetti perché sembra una cosa seria detta così però è un po' come Di Maio che va a rappresentare l'Unione Europea nel Golfo Persico cioè è quella roba là ecco Borrell mette in guardia la prospettiva di una guerra in Unione Europea non è fantasia siamo circondati da un anello di incendi di instabilità di cui ovviamente noi non sappiamo niente noi così guardiamo questi incendi ma che sfortuna stati non vogliono esercito Unione Europea ma ciascun paese impegni il 2% del PIL in difesa e anche questo Ludovico è interessante come cambio di paradigma ma come proprio quelli dell'austerità del taglio della spesa pubblica delle privatizzazioni della liberalizzazione adesso riscoprono l'importanza di uno stato presente in questo caso nell'industria bellica però c'è un po' una riconversione da tutti i punti di vista anche all'ultimo secondo se vogliamo quasi claunesca eh sì questo è il punto diciamo perché mentre per decenni c'è stata un'impostazione che non era semplicemente politica economica ma più profondamente culturale e dall'alto si è imposta a una collettività oggi si cerca di dare una sterzata e lo si fa in maniera estremamente goffa Paolo ha fatto un bellissimo escursus su quella che è stata la storia della Russia negli ultimi direi 30-40 anni e questo escursus secondo me ci mostra una cosa significativa cioè una comunione importante fra lo stato di salute in generale direi lo stato la psiche delle elite russe e del popolo cioè c'è una qualche tipo di contiguità fra il sentire popolare e quella che è la leadership di quel paese che non significa che sia espressa in maniera tecnicamente democratica significa semplicemente che c'è questo tipo di attività di assonanza e questo è molto significativo perché al contrario di quanto non avvenga in Russia qui noi vediamo una leadership o meglio delle elite europee che cercano di guidare sapendo qual è il bene per il popolo il popolo per l'appunto offrendogli dei dispositivi narrativi culturali eccetera che spesso suonano ridicoli così come era ridicolo agli occhi di un uomo che magari si era impegnato politicamente in prima repubblica a bracciare quella condizione post-storica che noi spesso denunciamo analogamente oggi suona ridicolo alle orecchie di un giovane cresciuto in questa post-origità sentire che dovrebbe prepararsi a infilare l'elmetto non so se mi spiego cioè c'è una profonda una profonda cesura fra collettività e elite mettiamola così che sono convinte di poter orientare la collettività a seconda di ciò che viene raccontato dicendo esattamente l'opposto di quello che dicevano pochi minuti prima ogni volta che ce n'è bisogno e qui si potrebbe spaziare insomma ovviamente ora abbiamo parlato della prospettiva della guerra in rottura con quell'impostazione irenica che ci avevano sempre raccontato il mondo è un mondo senza confini i confini anzi sono un retaggio del passato le identità sono una sciocca vestigia di un passato da cui occorre emanciparci a contempo oltre a tutto questo c'è anche una concezione di come debba svolgersi di come debba svilupparsi l'economia un'idea che ha al centro il libero mercato la libertà assoluta in ambito economico la concorrenza assoluta e spiedata che oggi improvvisamente spariscono di fronte alla necessità posta nei termini addirittura di un'economia di guerra di pianificare l'attività industriale perché sorpresa sorpresa se c'è da armarsi è chiaro che servono delle industrie che producano degli armamenti e magari servono dei forti finanziamenti statali per rendere convenienti gli investimenti in questo tipo di settore quindi in linea di massima c'è un cambio di paradigma su praticamente tutto di 180 gradi e questo è appunto abbastanza ridicolo quello quel pagliaccio Matte che tu hai messo nella nostra copertina di stasera con l'elmetto beh rappresenta un po' quello a cui stiamo andando incontro e d'altra parte non si può non andarvi incontro nel senso che a livello internazionale la congiuntura in cui stiamo entrando impone di fatto agli europei e alle classi dirigenti europee una chiamiamola così responsabilizzazione che detto fra noi è un bagno di realtà cioè una rimmersione in quel maleodorante puzzolente fiume che è la storia fatto di conflitti fatto di scontri eventualmente di guerra perché perché come abbiamo detto tante volte agli americani oggi come oggi di occuparsi diciamo così dei teatri tra mediterraneo e europeo interessa sempre meno l'opportunità che hanno colto gli americani con la guerra in ucraina era appunto un'opportunità perché ha permesso loro di ottenere un grande risultato mettiamolo così spendendo vite non proprie cioè il grande risultato che hanno ottenuto gli americani lo abbiamo detto un miliardo di volte dal punto di vista economico è stato rompere completamente il rapporto fra Europa in particolare Europa occidentale della Russia ma anche dal punto di vista strettamente militare ha impegnato l'apparato militare russo con uno sforzo tutto sommato esiguo perché gli americani hanno investito qualcosa come il 4-5% del proprio budget militare sulla questione ucraina sul dossier ucraino come direbbero loro quindi l'EA di Massina sono riusciti a coinvolgere quello che ad oggi percepiscono come uno dei due principali avversari per non dire nemici sul piano internazionale in una partita insomma con uno sforzo tutto sommato minore tanto ripeto il sangue ce lo mettevano gli ucraini allora tutto sommato era un affare accettabile quando la partita è iniziata a diventare sconveniente come oggi ci mostrano tutte le uscite che arrivano d'oltreoceano hanno iniziato a disimpegnarsi nella più utilitaristica prospettiva tipica di Washington insomma quindi da questo punto di vista è chiaro che gli europei sono chiamati a riprendere un posto perché perché se chiamiamolo così quello che può essere percepito come un ombrello da alcuni o percepito come un vincolo una gabbia da altri viene un po' meno e gli europei sono chiamati alla necessità di riprendere un posto nella storia e quindi per avere un posto nella storia serve armarsi serve essere pronti alla possibilità del conflitto ma questo cozza ripeto con la sensibilità che il racconto proposto dalle nostre elite ha di fatto imposto nella nostra collettività poi sia chiaro non è che questa imposizione avrà l'efficacia della durezza del vivere per mutuare l'espressione di Padoa Schioppa cioè quando i tempi si fanno duri non c'è potenza del racconto che tenga le persone si adeguano mettiamola così perché si rendono conto di doversi adeguare però certamente aver fatto una sterzata di questo tipo in maniera così anche grottesca senza cercare neanche di raccontare le cose come stanno neanche di provare da zero a cento da zero a cento proprio una roba i cittadini come se fossero dei bambini da portare a spasso quasi al guinzaglio è questa roba particolarmente stridente poi magari dopo parleremo anche di quello che potrebbe succedere nel corso della prossima non so si chiama legislatura quella dell'europarlamento non lo so non l'inizio di me lo leghiamo gag la prossima gag del parlamento europeo della commissione non vi sia la prossima gag capito se una legislatura credo che anche proprio a livello etimologico sia connessa all'attività legislativa ma una legislatura senza legiferare non è male non è male d'altronde Borrell rappresentante alto rappresentante di affari esteri di una roba che non ha non ha un peso geopolitico beh prima di tornare a te Paolo appunto volevo aggiungere che questo è un qualcosa che noi risottolineiamo spesso in pro Italia l'aspetto non solo politico economico ma anche narrativo culturale nel momento in cui tu hai creduto che tutto sommato tutto ciò che fino a quel momento aveva plasmato la storia quindi le tradizioni quindi gli ideali quindi la politica stessa quindi la visione strategica e magari guardare oltre il presente noi siamo veramente cresciuti anche le nostre generazioni con questa vocina nell'orecchio nel vivi nel presente vivi nel presente goditi il presente ma questo ti impedisce di progettare a lungo termine e di considerare un qualcosa dopo di te figuriamoci qualcosa prima di te no? Ugo Ietti scriveva gli italiani sono un popolo di contemporanei ma l'occidentale medio è un contemporaneo cioè non riesce a porsi in una linea temporale che poi gli permetterebbe di capire anche i famosi corsi e ricorsi storici che tu Paolo prima hai accennato un parallelismo con il passaggio dalla Roma di Massenzio a quella di Costantino ma in generale un cambio di paradigma che c'è chi ha fatto per tornare nella storia e noi invece adesso noi inteso come europei ecco ci stanno cercando di far fare però in maniera ecco tragicomica nel senso che da 0 a 100 in pochissimo tempo in questo forse rientra e qui magari anche tu Paolo prima l'hai accennato anche i discorsi fatti da Salvini ultimamente sui giornaloni con queste virate non è neanche un'inversione a UE è proprio un testa coda una cosa straordinaria io sono per l'Ucraina il partito di Putin chi l'ha mai conosciuto cioè tutto questo Paolo per te è come dire sintomo non solo di un certo nervosismo però se vogliamo anche di una pochezza politica intellettuale di chi poi alla fine ci governa perché poi al di là dei coercizioni accordi sotto banco che sicuramente ci sono è veramente siamo in mano ai nani a nani che dall'altra parte hanno semplicemente dei politici dei governanti che un'idea di paese ce l'hanno tutto qua certo siamo siamo in mano dei personaggi pittoreschi e questo è anche una cioè ci sarebbe tanto tanto lavoro per per degli psicologi o anche per qualcosa di più strutturato ecco magari anche per degli psichiatri non deve fare peraltro paura la parola psichiatra soprattutto se applicata a dei contesti politici dove appunto personaggi e personalità di rilievo hanno poi responsabilità anche di gestire comunque la cosa pubblica e dunque anche la quotidianità delle persone detto questo e vado con ordine il ponte milvio russo potrebbe essere stato per Putin ma credo Beslan Beslan fu sicuramente un turning point come direbbero gli americani o gli inglesi c'è un punto di non ritorno e infatti dopo Beslan la Russia cominciò a Putin stesso cominciò anche ad approfondire la ristrutturazione interna dello Stato revocando l'elezione diretta e indiretta dei governatori ma dei governatori regionali e designando dunque i governatori su nomina presidenziale non più attraverso elezioni ecco infatti poi le rivendicazioni dell'opposizione liberale in Russia l'opposizione filo occidentale nel 2011 con quella sceneggiata che è passata la storia con il nome di rivoluzione dei visoni dopo le elezioni parlamentari del 2011 dei visoni non perché l'hanno fatta dei visoni ma perché le persone che vi hanno preso parte erano esponenti della classe medio alta di Mosca San Pietroburgo e andavano alle manifestazioni particolarmente impellicciate era anche dicembre con abiti costosi pellicce costose per cui hanno subito identificato anche il ceto socio-professionale di questi personaggi e li hanno così classificati ma detto questo una delle rivendicazioni di questi protestatari fu il ritorno a un regime di elezione diretta dei governatori anche in questo modo per decentralizzare i poteri e per tornare a quella sorta di sistema neofeudale o semifeudale che era la russa degli anni 90 dove i poteri locali le mafie locali di fatto spadroneggiavano e il potere il governo centrale aveva uno scarso controllo del territorio infatti io avevo il sussidiario in terza superiore c'era scritto federazione russa c'era scritto ci si diceva solo questo della russia la russia veniva spiegata in tre righe sul sussidiario del superiore un paese con un sistema istituzionale basato su forti poteri presidenziali ma che non sempre il presidente riesce a poter esercitare in quanto a livello locale c'è marasma sostanzialmente e dunque le province sfuggono e le regioni le repubbliche autonome sfuggono al controllo del presidente veniva sintetizzata così bene e anche male in effetti questo era e Beslan ha segnato veramente un turning point ma anche altri episodi la Dubrovka prima ancora e dopo Beslan la conferenza di Monaco del 2007 in cui Putin disse apertamente che gli Stati Uniti non potevano pensare di essere i padroni del mondo e dovevano abituarsi all'idea di un mondo multipolare Gheddafi anche la fine di Gheddafi perché quando Gheddafi venne barbaramente ucciso sodomizzato con le baionette ancora in vita dai ribelli moderati e democratici della così alleati della Nato e dunque dell'impero del bene che è innocente we came we saw he died ecco McCain il defunto ma non compianto il senatore McCain disse beh Putin guarda cosa sta accadendo a Gheddafi perché il prossimo sarai tu ecco per cui insomma ci furono provocazioni ce ne furono e a queste provocazioni continue certo tanti piccoli o grandi ponte milvio in cui poi alla fine Putin chiaramente salito al potere come esponente politico di accordo e raccordo con l'Occidente perché Yeltsin non desiderava affatto una rottura sebbene avesse capito verso la fine del suo mandato che comunque non si poteva più andare avanti così perché poi nel 1999 a proposito dell'innocenza dell'Occidente la Nato fece questa azione di aggressione militare contro la Jugoslavia che era considerato non a torto un alleato della Russia nei Balcani e in Europa e quella guerra fu vista dalla Russia come un tentativo occidentale per accerchiarla per cui Yeltsin già verso la fine del suo mandato aveva un po' cambiato registro aveva già dovuto cominciare a cambiare registro nel 1996 a gennaio del 96 quando fu costretto se voleva avere qualche speranza di vincere le elezioni presidenziali di giugno in cui poi truccò al massimo vabbè ma questo lo spiega bene Giulietto Chiesi in un suo libro dovette sbarazzarsi del suo ministro degli esteri Andrei Kosirev che era un subalterno dell'Occidente e nominare il ministro degli esteri Evgeni Primakov che invece fu come detto prima l'artefice della strategia politica della multivettorialità e fu in parte l'inventore dei BRICS perché cominciò a stipulare alleanze o intese o accordi con la Cina e con l'India si chiamava la triangolazione strategica Russia-Cina e dicevo comunque la rottura di fatto avvenne progressivamente a partire da quel fatto da quell'evento la guerra contro la Jugoslavia e da lì poco alla volta si arrivò di fatto a quella che è il conflitto odierno ma voi vi ricordate sicuramente ma è bene citarlo anche l'episodio della corsa verso Pristina 12 giugno 1999 e io stavo guardando Ciao Darwin in televisione ero a casa finita la scuola facevo quarta superiore mi guardavo Ciao Darwin slitto un attimo su all'epoca non so se si chiamava non si chiamava ancora la 7 si chiamava ancora Tele Monte Carlo e vedo i carri armati russi che entrano a Pristina dico no ho sbagliato canale oppure un fantasma si è impossessato della mia televisione come nel film di Pozzetto La casa stregata non era così era vero quello che vedevo era la realtà ma sgranai gli occhi non portavo ancora gli occhiali ma rimasi e poi dai sterrefatto anche un po' così abbastanza esaltato in maniera positiva in maniera contento ma finalmente i russi si svegliano cosa era successo? era successo che una colonna di mezzi blindati circa 30 carri armati russi supportati da altri veicoli e con 250 soldati al seguito aveva lasciato le posizioni russe in Bosnia-Herzegovina e scrivendo KFOR al posto di Sfor sulle carlinghe dei mezzi corazzati la guerra era appena finita si era firmato due giorni prima l'armistizio a Kumanovo in Macedonia tra Sveto Zara e Marovic rappresentante jugoslavo e il generale Clark quello americano e per il 12 giugno erano attesi l'ingresso delle forze NATO occidentali in Kosovo i russi li anticiparono muovendosi dalla Bosnia e questa operazione finì con l'occupazione da parte russa dell'aeroporto di Pristina arrivarono per primi cogliendo di sorpresa la NATO pensate che furono accolti sulla strada per Pristina e soprattutto in città dai serbi dei kosovari di etnia serba e festanti perché era l'ultima cosa che si aspettavano pure loro adesso ci aspettiamo quei della NATO che ci faranno un mazzo così arrivano invece i russi ma non ci puoi credere veramente a volte e questa operazione fu voluta dall'allora capo di stato maggiore delle forze armate russe Anatolik Vashnin coordinata dal generale Viktor Zavarzin oggi deputato di Russia Unita è avallata da Putin perché Putin sebbene nel giugno del 1999 era ancora un emerito sconosciuto agli americani che furono veramente sorpresi quando Yeltsin lo nominò suo successore ma non si aspettavano veramente si aspettavano chiunque tranne lui era in quel momento uno degli uomini più potenti dell'amministrazione presidenziale in Russia perché Putin era contemporaneamente nel giugno 1999 e perché i nostri media in occidente quando Yeltsin nominò Putin in primo ministro ma chi è questo ma chi è ma chi è perché i media nostri sono il megafono il ripetitore il cane rispetto a San Rocco cioè quello che segue delle veline del dipartimento di stato americano niente di più e delle agenzie internazionali di stampa controllate dal governo dall'amministrazione americana per cui gli americani non sapevano chi fosse Putin non se ne curavano e non se ne curavano neanche i nostri media ma Putin era potentissimo era contemporaneamente direttore dell'FSB servizi segreti per l'interno la branca interna dell'ex KGB e segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale cioè di fatto aveva in mano le redini della politica interna russa e Putin disse a Kvashnin se ti senti di fare questa cosa falla cioè nel suo stile no? non gli disse sì ti ordino di fare questo in modo da delegare anche una quota di responsabilità ma se vuoi per me va bene e questo gesto di Putin non fu casuale fu mediato fu studiato questo gesto fu una dimostrazione di risveglio della Russia e come a dire abbiamo preso tanti schiaffi ma basta ma facciamo vedere che ci siamo anche noi perché la Russia era stata umiliata durante il corso di guerra vi ricordate il volo di Primakov il Primakov's Loop l'hanno chiamato il ritorno indietro di Primakov era andato il primo ministro era andato a trattare per un negoziato con gli Stati Uniti volava verso Washington a bordo dell'aereo di Stato Russo Al Gore gli telefona e dice abbiamo cominciato a bombardare la Jugoslavia e Primakov ordina il pilota di tornare indietro in versione a unei cieli e ritorno a Mosca 24 marzo 1999 un'umiliazione tremenda da quel momento in avanti la politica estera russa non potè più essere come prima tant'è vero che già a fine del 99 Putin disse l'alleanza atlantica non è un problema di sicurezza non è percepito dalla Russia come un pericolo per la sua sicurezza nazionale ma lui in quel momento era primo ministro consiglio fortemente il riarmo del paese il paese era stato smantellato dal punto di vista militare o parzialmente smantellato negli anni 90 il ministro della difesa era quel tale Pavel Grachow che veniva chiamato ironicamente ma non troppo dai russi Pavel Mercedes Grachow come il posto il patronimico al posto di Sergievici aveva messo Mercedes perché aveva lucrato e si era comprato molte Mercedes con i proventi di quelli che erano sostanzialmente i fondi destinati al ritorno dei soldati russi dalla Germania Est e dalle repubbliche dalle zone ex sovietiche del patto di Varsavia verso la Russia per dire com'era messa l'industria bellica russa degli I-90 ebbene Putin consiglia il riarmo in effetti poi il riarmo ci fu e la Nato fu percepita come un problema per la sicurezza nazionale russa forse un po' tardi ma i tempi erano quelli anche perché prima forse non si poteva fare passando alla questione partiti politici antisistema Le Pen Salvini eccetera beh ma la Le Pen ha fatto la stessa cosa di Salvini la Le Pen ha detto di essere completamente dalla parte dell'Ucraina ora io mi chiedo non so se più o meno legittimamente è una strategia oppure sono veramente consci del fatto che nel momento in cui desiderano occupare anche a seguito di un voto legittimo posizioni di potere interne ai paesi di cui sono espressione non possono far altro che per accreditarsi alle tecnostrutture sovranazionali neoliberiste che di fatto controllano i loro paesi come interlocutori civili responsabili e moderati cioè la Le Pen ha fatto tutta una serie di svolte moderate a partire dal 2017 in avanti che effettivamente la qualificano come una sorta di Giscard d'Estaing 2.0 la figlia glielo rinfaccia la figlia stessa glielo rinfaccia se ben ricordo questo tipo di mai e però si è messa con Zemmour che è peggio ancora Zemmour è un sionista estremista per cui il fatto è questo la Le Pen nel 2017 12 vabbè comunque diceva gli chiedevano ma fini ma fini la svolta difficile ma fini le disgrazie esistono ma poi passano adesso lei sta facendo la stessa cosa ha cambiato nome al partito ha modificato l'orientamento politico del partito la prima moderatamente gollizzato e oggi lo sta Giscardiniando no proprio Giscardiniando lo sta scardinando e ne sta facendo di fatto il collettore per un'aggregazione di centrodestra moderata che andrà di fatto a prendere il posto degli ex gollisti ERPR UMP oggi LR noi repubblicani che sono spariti esattamente come ha fatto Siriza con il PASOC Siriza si è mangiata il PASOC ma poi è diventata il nuovo PASOC e oggi il PASOC ha ripreso forza e Siriza crolla perché gli elettori dicono ma per votare la brutta copia ma io voto l'originale tanto è la stessa cosa questo succede veramente ovunque guarda Paolo è incredibile però ecco la soluzione in questo caso noi la troviamo nella terza diciamo opzione che aggiungiamo noi il fatto che tutto sommato magari si di fronte a un elettorato peraltro piccola parentesi io prima ho detto la figlia di Le Pen ovviamente è la nipote della Le Pen bisogna dire le cose chiaramente però come dice giustamente Paolo anche lei non è che brilli come dire per disallineamento il discorso è che forse alla base vi sia quel pensiero da cui abbiamo cominciato questa diretta cioè l'idea che tutto sommato una strada diversa non possa esistere però è gente ovviamente che mastica politica quindi sa che di fronte a un elettorato dire certe cose toccare determinate corde premi però poi quando si va al dunque tutto sommato la via è unica there is no alternative e quindi alla fine se l'alternativa non esiste la strada è già tracciata la strada è quella più integrazione europea più disintegrazione europea se vogliamo metterci l'aspetto bellico cioè fondamentalmente Ludovico vediamo sfumature dello stesso pensiero solamente c'è chi ci arriva in maniera più diritta e chi invece facendo tutte queste questi slalom giustamente ha tra l'altro Luigi prima di passarti la parola Ludovico Luigi ci ha regalato un altro acronimo sulla parola dietro fronte lo leggiamo ovviamente divertente inversione esilerante tragico media rovinosa ossimorica fanfara raccapricciante operazione nani tonanti nani tonanti non è male ne abbiamo parecchi di nani di nani tonanti grandissimo Luigi ecco Ludo quindi il discorso è questo proprio perché siamo in mano a dei nani tonanti il pensiero base dei nani tonanti è basso sì diciamo che secondo me le svolte sia di Lega che di Le Pen quindi di Salvini sia che della Le Pen sono molteplici alcune delle quali se non condivisibili quantomeno comprensibili altre semplicemente frutto di subalternità culturale penso in particolare al rapporto nei confronti dell'Unione Europea e al rapporto in merito alla questione della moneta unica trami partiti no? partiti lancia in resta scusate il gioco di parole per contestare insomma questi vincoli della sovrastruttura europea si sono moderatizzati molto rapidamente anzi hanno addirittura scelto di svoltare in chiave moderata e normalizzata prima di raggiungere delle posizioni di potere onde avere la serenità di poterle raggiungere e poterle occupare tranquillamente altro invece è il discorso sul piano strategico cioè quello che denuncia Paolo è vero sicuramente queste formazioni hanno una gravissima colpa in termini di coerenza di linearità nella propria postura in particolare nei confronti della Russia di Vladimir Putin però però c'è un dettaglio cioè che se riconosciamo giusta o quantomeno vera insomma analisi per cui molti dei paesi occidentali se non tutti sono di fatto nell'area di influenza americana è anche inevitabile che le forze politiche che si apprestino a prendere dei ruoli di potere insieme al paese imbastiscano un dialogo con l'egemone non è strano in questo senso non credo che abbiano molto peso le sovrastrutture internazionali più o meno articolate cioè qui si va a parlare direttamente a Washington come ha fatto la Meloni la Meloni nell'agosto forse nel luglio del 2022 qui in Italia ha preso un bel volo per gli Stati Uniti d'America è andata a staccare un bel volo di governare questo è il drammatico destino di chi vive una posizione fondamentalmente coloniale se non proprio coloniale quantomeno diciamo rientra fermamente nell'area di influenza di un impero altrui ora da questo punto di vista quindi da una parte bisogna riconoscere che questo è un dato dettato dal rapporto di forza che non si diciamo che non si rivoltano con uno schiocco di dita dall'altra bisogna anche riconoscere però in seno a questi cambi di traiettoria una profonda pochezza e qui torniamo al tema dei nani tonanti di cui ci ha parlato Luigi nel suo acronimo cioè un conto è dialogare con quello che è l'egemone che ha delle capacità anche semplicemente di infiltrare i tuoi apparati statali non con degli uomini direttamente ma semplicemente con una cultura un'idea che alleggia fra il personale più significativo dei tuoi apparati penso in particolare a quelli militari e un conto quindi è dialogare e cercare di ritagliarsi una posizione barcamenandosi nel gioco internazionale e riuscendo quindi a fare del proprio paese un attore un soggetto e non un oggetto delle scelte altrui altra cosa invece è sostanzialmente piegarsi non dico quanti gradi per assicurarsi una posizione di potere perché questo significa semplicemente ambire ad amministrare scelte prese da qualcun altro e di conseguenza diciamo così trarre i benefici di essere colui che amministra il potere quindi avere la possibilità di articolare i propri sistemi clientelari le proprie di offrire le proprie prebende d'accordo tutto bello però dal punto di vista politico di una pochezza straordinaria ecco quindi da questo punto di vista secondo me le svolte sono molteplici di questi attori diciamo che si raccontavano antisistema e alcune sono completamente gratuite altre va riconosciuto quando toccano le corde strategiche che sono dei passaggi ineludibili e che però si possono affrontare in maniera diversa magari con la possibilità rischiare perché ricordo che anche nella prima repubblica chi governava il nostro paese doveva alzare il telefono e dialogare con Washington però si dà il caso che talvolta aveva anche il coraggio di mostrare i denti e di rischiare qualcosa pur di portare a casa i risultati che riteneva necessari per il proprio paese beh diciamo che quello che poi fa cadere nello scoramento tanti italiani non solo è il fatto che poi queste inversioni vengono fatte in maniera così palese in maniera così sfrontata in maniera così ridicola che non si ha nemmeno l'idea che vi sia dietro appunto una strategia perché in fondo non c'è se non quella di rimanere in sella e normalizzarsi agli occhi dell'egemone senza tentare alcun colpo di coda o perlomeno alcun tipo di appunto di sotterfugio per portare come dire il proprio paese in una linea leggermente più divergente no improvvisamente lo stesso che prima ti diceva che noi dobbiamo batterci contro l'allargamento della Nato dobbiamo in qualche modo evitare la guerra diventa il più realista del re ma da un giorno all'altro certo e a seguito poi magari di un premio elettorale questo sicuramente anche questo rientra nella nel physique du rôle classico del nanotonante ecco nanotonante dobbiamo farlo proprio nostro mi piace tanto il nanotonante oppure come diceva d'annunzio il cretino fosforescente il nanotonante quindi proprio suona suona benissimo io Paolo ti porrei questa domanda per diciamo come ultimo quesito anche se nessuno di noi ha la sfera di cristallo eh per carità poi ovviamente se vuoi aggiungere qualcosa a quello che ha detto anche Ludovico riguardo alla normalizzazione agli occhi dell'egemone che però viene fatta nella maniera più ridicola possibile ecco ti chiederei secondo te questa questo diciamo questa puzza di polvere da sparo che aleggia un po' sul vecchio continente viene in qualche modo come scriveva Altiero Spinelli decenni fa l'Europa ha bisogno di un di un nemico esterno per compattarsi no per dar vita ad un unico grande un unico grande attore geopolitico l'Europa intesa quasi come Stati Uniti d'Europa o Europa nazione ecco questa voglia di guerra irrefrenabile è a tuo avviso spinta volutamente per per rinforzare questo questo passaggio ad un'Europa più integrata e a tuo avviso verrà coronata dal successo lasciamo da parte l'aspetto prettamente militare ma secondo te questo accelererà la disgregazione dell'Unione Europea o tutto sommato a livello politico potrebbe invece compattarla ulteriormente l'Occidente è finito è finito l'Occidente liberale intendo può andare avanti anche ancora qualche anno ma come non so se vi ricordate il film Weekend col morto se lo portavano in giro se lo sono portato in giro per qualche settimana ma era morto Lomax si chiamava il personaggio era anche un film divertente ma è quello che sta accadendo c'è un cadavere che viene portato in giro portato avanti con stampelle e grucce con dei fili mosso artificialmente ma perché è finito perché i valori che esprime non sono più esportabili in alcun modo no per niente e cominciano a infastidire ripugnare anche gli autoctoni e questo fa sì che un qualunque tipo di io non uso il termine impero per l'Unione Europea ma uso il termine struttura di governance ripieghi su se stesso o comunque sia fortemente mutilata nel momento in cui non ha un pensiero forte che può essere in qualche modo spendibile o essere attrattivo e l'Unione Europea non ce l'ha ma pensate a quanto e torno al discorso di partenza quanto poteva essere attrattivo per i paesi dell'Europa centro-orientale prima del 1989 a ridosso di quella data il modello dell'edonismo americano che personalmente poteva anche farmi schifo però riconosco che era dotato di un certo appeal commerciale attraente certo l'American dream può anche io a 12 anni già lo contestavo radicalmente radicalmente però potevo ammettere che i miei compagni di classe lo trovassero attrattivo non lo condividevo ma potevo riconoscere adesso sugli stessi popoli il modello di riferimento LGBT perché siamo passati dall'edonismo reganiano al modello LGBT non ha più quel potenziale attrattivo è inutile che stiamo a menarcela non ce l'ha più può essere fantasmagorico bellissimo può piacere ma non è spendibile non è commerciabile non ha mercato non ce l'ha neanche qui tant'è vero che per trovargli un mercato e creargli un mercato qui si deve usare la forza cioè si deve imporlo per via legislativa attraverso tutta una serie di dispositivi che possono arrivare fino a sanzionare con in maniera civile o penale chi di fatto non aderisce a suon di censure ecco per cui questo deficit valoriale di fatto lo mette in crisi e poi un'altra cosa il nichilismo di mercato che è tipico dell'occidente e del suo modello di il suo modo di produzione essendo un nichilismo di fatto poi va a distruggere il suo stesso oggetto cioè va a distruggere se stesso ma lo vediamo praticamente l'industria bellica occidentale che è entrata nelle dinamiche del nichilismo di mercato non produce più armi per vincere le guerre produce armi per fare soldi e infatti perde le guerre l'industria bellica russa a metà degli ai 90 era ridotta maluccio poi con la ricentralizzazione del comparto del complesso militare industriale oggi si cita anche il sottomarino Kursk si gliel'hanno abbattuto gliel'ha fatto fuori il Memphis c'era un buco di un proiettile poi vabbè poi c'è tutta una storia poi se vogliamo ne parliamo in un'altra puntata però dicevo la ricentralizzazione del complesso militare industriale russo di fatto fa sì che la Russia produca armi per vincere le guerre e che lo faccia anche in maniera più efficiente rispetto all'Occidente e soprattutto i paesi europei che oggi hanno i loro arsenali svuotati ricordo quando si parlava di benedizioni obbligatorie Cecchi Paone diceva chi è che ha svuotato i cimiteri chi è che ha svuotato i cimiteri le voleva dire forse chi ha svuotato gli ospedali in realtà quelle benedizioni obbligatorie hanno svuotato niente comunque lui dice a chi è che ha svuotato i cimiteri ma forse Undertaken oppure Giorgio Romero ha svuotato i cimiteri con i suoi film sugli zombie chi ha svuotato invece gli arsenali europei gli arsenali i depositi militari europei gli americani e dove dovranno comprarle le armi gli europei se vorranno difendersi dal cattivissimo Putin dagli americani chi ci guadagna in tutto questo gli americani chi ci perde un'Europa che attraverso l'Unione Europea non è altro che un'amministrazione antirussa degli Stati Uniti per cui l'Unione Europea ha già finito le armi c'è paesi che fanno i gradassi sul piano internazionale come l'Estonia la Lituania e la Danimarca che non so fanno i gradassi questi paesi non hanno più nulla non hanno neanche più un cannone perché hanno dato già tutto all'Ucraina hanno dato tutto all'Ucraina eppure dicono siamo disposti anche alla guerra mondiale ma con quali armi scusate con quali armi che sono già state due bruciate sul campo per cui è anche difficile immaginare oggi una strategia bellica l'unica cosa che possono fare è mandare dei soldati come dei bersagli per dire ecco se sparate su questi soldati noi utilizzeremo l'arma atomica questo i francesi Macron forse lì vuole arrivare vuole alzare l'asticella e più alzano anche l'asticella con numerose e nuove provocazioni perché nel momento in cui fanno un accordo fanno una proposta poi questo l'ha fatta Trump si dice è poi stata smentita eccetera alla Russia secondo cui il patto è noi vi diamo quello che è già vostro e che avete e che già vi abbiamo fatto pagare un prezzo molto elevato in termini di risorse sangue umano eccetera eccetera e in cambio voi ci date il pezzo di Ucraina rimanente nella Nato vuol dire che hanno capito nulla e questo lascia anche pensare che la loro diplomazia segreta sia nel panico e totalmente inadeguata come i collaboratori di Pio VII nel film Il Marchese del Grillo esattamente così andatevi a vedere quel film e vedete chi sono i collaboratori di Pio VII lui li definisce pochi e inadeguati la diplomazia segreta occidentale è così perché se non si mettono in testa e secondo me lo sanno ma sono talmente fanatici ideologici e provocatori e anche mio che non riescono a vedere la realtà non la vogliono vedere la realtà che l'Ucraina per la Russia non è un paese come gli altri è parte del suo earthland culturale e strategico la Russia ha fatto l'operazione militare speciale in Ucraina piaccia o no giusto o sbagliate che sia perché non vuole che l'Ucraina entri nella Nato neanche un pezzo di Ucraina perché l'Ucraina nella Nato anche solo una parte dell'Ucraina nella Nato significa di fatto la sconfitta il fallimento dell'operazione che i russi hanno lanciato in Ucraina nel 2022 i russi non accetteranno che l'Ucraina entri nella Nato perché hanno già accettato nella Nato tutti tutti e l'Ucraina è una linea rossa che non possono col capitale economico culturale militare che vi hanno investito a cui non possono rinunciare l'Ucraina e la Geo all'Ucraina e alla Georgia non rinunceranno mai hanno anche permesso che fosse entrata nella Nato la Polonia hanno permesso l'entrata dei paesi balti hanno permesso l'entrata della Finlandia della Svezia insomma hanno fatto entrare tutti ma l'Ucraina la Bielorussia e la Georgia no anche per una questione minimamente di immagine e di dignità nazionale non lo permetteranno mai perché se l'Ucraina entra nella Nato lì veramente la Russia subisce una sconfitta perché la sua la sua narrazione è quella siamo intervenuti per evitare che l'Ucraina entri nella Nato che l'Ucraina rimanga neutrale così come l'Occidente vabbè gli Stati Uniti hanno vinto nel senso che hanno separato l'Europa dalla Russia questo è chiaro ma l'Occidente al punto di vista militare sto dicendo militare non geopolitico geostrategico bisogna sempre tenere due piani separati perché al punto di vista geopolitico e geostrategico gli Stati Uniti possono anche aver avuto dei vantaggi ma al punto di vista militare l'Occidente non vincerà anzi sarà sconfitto se l'Ucraina non arriva in Crimea perché loro hanno dichiarato Putin vincerà la guerra se l'Ucraina non ritornerà ai confini del 1991 ma a quei confini non ci ritornerà mai toglietelo dalla testa non ci tornerà mai per cui attualmente la posizione di chi toglie dal tavolo negoziale la parola neutralità dell'Ucraina è una posizione di chi è sostanzialmente in un tunnel senza via d'uscita per questo stanno cercando disperatamente di prendere tempo perché devono preparare l'opinione pubblica occidentale a una nuova narrazione cioè quella vabbè forse abbiamo alzato un po' troppo l'asticella qualche concessione abbiamo non vinto eccetera eccetera abbiamo non vinto come disse un pareggio uno a uno x per citare super fantozzi dopo la maratona no che va davanti mi porti questo capitello al senato lui arriva cosa avete fatto a maratona avete vinto no ma non mi dica che avete perso ma ne avevo pareggiato uno a uno x torno un attimo maratona sono 42 chilometri 875 metri me lo segno su un foglietto poi ritorno qui altri 42 chilometri eccetera e vi do il risultato esatto e noi siamo in questa situazione in una situazione in cui non riusciamo a sapere noi come occidente se abbiamo vinto o se non abbiamo vinto meglio abbiamo perso ma non possiamo dirlo e poi ultima cosa ma ci siamo mai chiesti perché l'occidente gli statuti in particolare la Gran Bretagna adesso anche la Francia ma è un altro discorso questo tengano così tanto e abbiano investito così tanto nella guerra alla Russia per interposto l'Ucraina cioè all'Ucraina che è un paese che non fa neanche parte della Nato perché tutto questo non è stato fatto sulla Georgia nel 2008 ad esempio ma sull'Ucraina sì perché sull'Ucraina sono stati fatti da parte occidentale talmente tanti investimenti Victoria Nuland aveva già parlato nel 2014 di 6 miliardi spesi di dollari spesi dall'occidente per dare all'Ucraina il futuro che meritava cioè il futuro che meritava secondo la Nuland nella Nato e nell'Unione Europea ebbene questi investimenti sono investimenti il cui capitale che non è garantito è l'egemonia occidentale nel mondo ovvero se questi investimenti vanno bruciati vengono bruciati vengono dispersi l'occidente perde l'egemonia culturale militare economica può permetterselo fin dove può spingersi per cercare di mantenerla anche all'estremo sacrificio di scatenare come il film il dottor Stranamore la guerra nucleare insomma questa è una guerra di egemonia è in paglio l'egemonia dell'occidente l'occidente ha investito tutto questo tutti questi capitali nella guerra in Ucraina perché ha individuato in quel settore specifico in quel paese Perno tra l'Europa e la Russia la partita la posta in gioco della sua egemonia e non vuole retrocedere non può retrocedere né l'uno né l'altro e dovranno in qualche modo trovare o un accordo oppure perseverare nell'escalation quello che l'occidente sta tentando di fare tra l'altro l'occidente dovrebbe anche capire mettersi in testa che la Russia non è sconfitta militarmente e non lo sarà mai oggi un generale ucraino al Parlamento ucraino ha detto nell'est del paese l'ho anche postato sul mio canale Telegram questa cosa i soldati russi sono 7-10 volte più numerosi dei soldati ucraini ci manca il personale militare hanno fatto un'altra mobilitazione gli ucraini stanno cercando di arruolare 500.000 uomini sono in deficit di personale questa è anche soprattutto una guerra di logoramento una guerra di egemonia come la guerra dei 7 anni come la guerra dei 30 anni sul piano geostrategico e anche sul piano culturale attenzione perché è anche una guerra culturale e spirituale ma sul piano militare è una guerra di logoramento industriale che la Russia sta combattendo per distruggere la capacità bellica della Nato della Nato perché quella ucraina l'ha già distrutta tre volte l'esercito ucraino è stato già ristrutturato tre volte a Ramstein nelle varie riunioni della Nato in quella base era in Germania e questa è dunque una guerra di logoramento industriale dove i progressi sul campo contano fino a un certo punto conta appunto il logoramento la distruzione degli arsenali nemici e l'arsenale militare ucraino è stato nuovamente distrutto da un arsenale militare della Nato questo dimostra anche che le armi della Nato sono tutto fuorché invincibili così come ci erano invece state descritte pensate ai filmati e poi chiudo veramente sui carri armati dei carri armati Abrams che sono stati distrutti sul campo da dei droni da pochi migliaia di dollari quei carri armati invece hanno un costo esorbitante la ditta costruttrice degli Abrams ha chiesto il ritiro di quei filmati perché danneggiavano la sua immagine non glieli compra più nessuno se possono essere poi distrutti così facilmente dunque pensate a questi sistemi d'arma che si sono in qualche modo rivelati inefficienti nella conduzione delle operazioni sul campo cosa può essere questo per la Nato cosa può rappresentare se non una perdita di egemonia e di dominio anche dal punto di vista militare nel mondo e dunque una perdita di potenziale di capacità deterrente io peraltro sposo in pieno quando tu hai detto un impero comincia a decadere quando è incapace di raccontarsi in maniera affascinante non tanto al resto del mondo quanto ai propri stessi sudditi quando cioè il capitale umano chiamiamolo così inizia a non vedere più nell'impero in cui vive un punto d'arrivo questo ricordo un sondaggio che certificava come per la prima volta nella storia degli Stati Uniti d'America la maggioranza delle persone stiamo parlando di poco sopra il 50% ma la maggioranza delle persone negli Stati Uniti non vedesse più l'esercito americano come un'istituzione degna di rispetto e questo per un impero è un grosso problema perché poi come tutti gli imperi l'aspetto militare non è solamente quello materiale tecnico è la proiezione della propria potenza noi siamo cresciuti con i con i film hollywoodiani in cui l'esercito americano sconfiggeva i nazisti sconfiggeva i russi sconfiggeva gli alieni cioè salvava il mondo ok c'era sempre l'esercito americano a salvare l'umanità e quell'istituzione comincia a non avere più quel fascino agli occhi dei sudditi stessi non solo negli Stati Uniti ma qui in Europa cioè i sudditi per antonomate anche soprattutto dal punto di vista culturale quindi sì sicuramente siamo di fronte a un momento in cui gli Stati Uniti hanno raggiunto quell'apice da cui solitamente gli imperi poi tendono a discendere poi con quale velocità questo stia avvenendo dipende poi anche dalla partita da una delle partite più principali come ad esempio quella in Ucraina ve n'è un'altra Taiwan ovviamente perché poi i fronti sono 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 tanti di certo c'è come hai detto giustamente tu Paolo di mezzo c'è un'Europa che gioca a fare la più realista del re perché non ha un'idea di sé o meglio pensa di averla e non si rende conto che quell'idea è totalmente funzionale agli interessi di chi sta dall'altra parte dell'oceano che ha voluto staccare l'Europa in primis la Germania dalla federazione russa e c'è riuscita perché questo effettivamente gli americani a se stessi non al resto del mondo non possono raccontarlo quello lo possono dire di aver raggiunto quell'obiettivo però poi dar vita a una narrazione per poter dire abbiamo non vinto o come diceva qualcuno in termini calcistici li abbiamo chiusi nella nostra metà campo cioè devi riuscire a dire qualcosa che in questo momento a livello comunicativo è veramente cioè dopo che tu per due anni hai raccontato i russi intenti a combattere con le pale e l'esercito di Kiev a due passi da prendersi pure la jacuzia e tu adesso devi cominciare a dire beh però mi sa che no quando addirittura il Papa e nel Vaticano qualcosa ne sanno di politica internazionale da qualche ecco guarda lo volevo usare prima ci abbiamo no visto che ci abbiamo il clown no ecco ecco perfetto proprio è perfetto e dicevo anche quando il Papa si sbilancia nel dire forse Kiev dovrebbe di alzare una bandiera bianca allora lì capisci che qualcosa sta effettivamente effettivamente cambiando Ludo non so se volevi aggiungere qualcosa se no salutiamo Paolo per essere stato qui con noi perché è stata veramente una bella diretta una chiosa ma la quale magari Paolo vorrà vorrà controbattere cioè io sposo appieno la crisi della narrazione con cui l'Occidente offre se stesso a se stesso e al resto del mondo non c'è dubbio diciamo che specialmente per quello che riguarda l'impostazione globalista coltivata dalla fronda diciamo dell'elite americane più forte quella che politicamente potremmo rappresentare con i dem anche se è qualcosa di più dei dem direi direi che è vera anzi è indiscutibile è anche vero però secondo me che bisogna riconoscere che l'inizio della discesa del declino americano coincide comunque con una fase in cui siamo all'apice o vicini all'apice di questa parabola cioè se fino al 24 febbraio del 2022 gli Stati Uniti d'America erano all'apice oggi abbiamo scavallato d'accordo ma riconosco almeno dal mio punto di vista occorre riconoscere ancora la loro primazia su moltissimi aspetti non fosse altro perché il principale avversario che hanno designato come un amico numero uno cioè la Cina ad oggi non riesce a riprendersi ancora l'isolotto che sta a circa 170 chilometri dalle proprie coste e la Russia al contempo si trova come abbiamo detto tante volte a combattere una guerra in Ucraina perché Cinta di fatto strozzata da un contenimento terreno ordito dagli Stati Uniti d'America nel corso degli ultimi 30 anni quindi esattamente come uno che viene strozzato scalcia analogamente la Russia si è trovata a reagire in questo modo ma se c'è una reazione la bisogna riconoscere che chi strozza è in una posizione ancora oggi di forza che però sono totalmente d'accordo si è inceppata si sta incrinando sotto moltissimi aspetti stabilire la velocità con cui si realizzerà questo declino come diceva prima Matte secondo me è tutt'altro che scontato però sottolineo anche che dal punto di vista della narrazione con cui gli altri imperi che contestano quello americano si offrono ci sono dei problemi anche lì forse quello più saldo anzi è proprio quello russo in questo momento perché anche quello cinese non ha particolari capacità di proiettare il racconto di sé al di fuori della comunità cinese cioè i cinesi tanto per essere chiari per gli occidentali ma anche per altri popoli in giro per il mondo rimangono una collettività abbastanza aliena parliamoci chiaro non sono molti quelli che vogliono diventare cinesi non c'è nulla di paragonabile a quella volontà di palla americano che c'era per esempio qualche decennio fa qui in Europa e in buona parte del mondo bisogna riconoscerlo quindi la verità è che probabilmente stiamo entrando in una fase in cui il declino americano apre al caos questo è secondo me il punto più interessante e quindi anche scenari abbastanza imprevedibili però ecco su questo magari Paolo non è d'accordo perché io finisco a fare sempre la parte di quello che dice ma secondo me vi possiamo io vi dedicherei un'altra bella diretta dedicata proprio al futuro dell'impero a stelle strisce sarebbe veramente una bella diretta poi con Paolo sicuramente approfondiremo in maniera ancora più ancora più interessante Paolo allora intanto grazie per essere stato con noi stasera è stato come sempre un piacere invitiamo le persone a seguirti sui tuoi canali poi tu insomma ci becchiamo spesso anche in in diretta insomma sei davvero preparatissimo e sei stato ovviamente applaudito da chi ci ha seguito fino a questo momento grazie mille Paolo alla prossima ti aspettiamo alla prossima grazie a voi grazie a voi a tutti coloro che ci hanno seguito vi abbraccio alla prossima alla prossima ci vediamo presto eccoci qua eccoci qua allora allora bene abbiamo fatto un escursus grandioso perché veramente abbiamo parlato non solamente dell'aspetto come dire non ci siamo focalizzati solo sull'Unione Europea ma abbiamo fatto un parallelismo con chi invece sta facendo un percorso inverso volento o nolente perché poi c'è chi lo deve fare per sopravvivere forse anche questo spinge un po' la storia il dover sopravvivere a meno che tu non sia spinto da qualcos'altro io faccio sempre sarà che sono campanellista io faccio sempre il parallelismo con Roma con la crescita di Roma la quale non ha dovuto cioè è passata attraverso momenti di pura sopravvivenza gravissimi momenti ma io parlo della Roma Repubblicana addirittura quella monarchica però c'era qualcosa che la spingeva ad andare oltre ok non è un caso che tutti gli imperi si siano poi rifatti a Roma in maniera poi fallimentare perché non c'è riuscito nessuno in primi se l'impero britannico tant'è che da quelle parti Roma la detestano da sempre cioè è un rapporto di odio e amore quello degli inglesi verso Roma Robby Smart grazie a Matteo Ludovico affrontate sempre argomenti interessanti con ospiti eccessi grazie Robby che peraltro ripeto ho avuto il piacere di conoscere di persona Francesca scrive a Paolo bravo Paolo è davvero molto preparato peraltro ha una capacità di ricordare i nomi che io invidio perché ho difficoltà a ricordare i nomi di persone a me vicinissime invece Paolo riesce a tirar su tutto tutto il burono attorno a Vladimir Putin da alcuni nomi che non sono esattamente facili da ricordare quindi tanto tanto di cappello beh allora prima di salutarci oltre che invitarvi a seguirci sul nostro canale Telegram sul nostro sito www.proitalia.org c'è un appuntamento interessante ve lo faccio subito vedere ecco qua il 17 aprile alle 9 e mezza di sera ad Empoli a Piazza Farinata di Ghiuberti 16 presso il Comitato elettorale Andrea Poggianti sindaco ci sarà questo evento chiamato Tornare Potenza che peraltro ammicca esatto ammicca al libro di Filippo Burra che peraltro abbiamo avuto proprio nella diretta scorsa bel libro vi invito a metterci le mani sopra Tornare Potenza il declino targato Unione Europea non è una condanna ma una scelta perché noi siamo quella realtà politica che non smetterà mai di ripetere che dietro il nostro declino più che la coercizione che a un certo livello c'è ma più che la 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 spectre più che qualsiasi altra cosa a definire il nostro futuro e il nostro declino anzi è stata soprattutto la pochezza della nostra classe politica che tra quelle occidentali è stata quella una di quelle più convinte in assoluto della fine della storia e lo ha dimostrato incatenandoci a vincoli esterni sempre più stringenti con l'idea che quel vincolo esterno come scriveva Guido Carli salvasse gli italiani dalla loro animalesca natura ecco questa è l'idea base della nostra meravigliosa classe dirigente che in questo momento ci sta portando al macero ovviamente in questo evento ci sarà Ludovico Vicino costui quello con cui sto parlando Alberto Pardini di Pro Italia Lucca che salutiamo perché altro ci ha seguito durante la diretta e Andrea Poggianti che è il candidato sindaco per Insieme per Empoli noi siamo per il dialogo con tutti quindi come vedete noi veramente siamo abituati ad aprirci a parlare con tante realtà diverse perché non abbiamo problemi di confronto non abbiamo problemi di metterci come dire di fronte a chi magari la pensa vicino a noi o in maniera distante da noi in questo momento siamo in un momento di crescita e per noi il confronto è essenziale quindi vi aspettiamo il 17 aprile alle 9 e mezza ripeto a piazza Farinata degli Uberti 16 ad Empoli presso il comitato elettorale Andrea Poggianti sindaco tornare potenza il declino targato Unione Europea non è una condanna ma una scelta e questo non smetteremo mai di ripeterlo anche a costo di di mandare in crisi chi invece preferisce pensare alla coercizione perché poi alla fine ti de-responsabilizza pensare esatto è uno straordinario fattore di de-responsabilizzazione inoltre permettimi di dire Matte che sul nostro sito qualche settimana anzi una decina di giorni fa è uscito un bel articolo sempre di Alberto Pardini proprio dedicato a questa svolta in contesto europeo a tutto vantaggio degli Stati Uniti d'America eccolo qua parliamo di guerra bel articolo sì 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 ve lo consiglio di Alberto Pardini che è il nostro segretario della sessione di Lucca la schizofrenia sulla guerra dell'elite europea è lo specchio del loro spaisamento e questo è interessante quello da cui siamo partiti in questa diretta cioè l'idea che la guerra sia rientrata in maniera prepotente ma ridicola nel nel dibattito pubblico europeo veramente come se come se una persona cresciuta a pane unicorni arcobaleni a un certo punto gli venisse detto ah sì a proposito potresti dover sparare cioè veramente quale può essere la reazione di quella di quella di quella di più Alberto nel corso dell'articolo affronta molto da vicino eh i grandi vantaggi dal punto di vista economico che eh gli Stati Uniti in particolare l'industria americana sta attraendo da questa torsione europea quindi assolutamente vi consiglio di andarlo a recuperare anche perché completa un po' il discorso che abbiamo impastito questa sera cercando di capire come eh una certa postura europea in relazione alle politiche economiche alle politiche industriali oggi sia il miglior scivolo dei nostri capitali dei nostri eh dei nostri cervelli della nostra capacità industriale verso gli Stati Uniti d'America quindi insomma assolutamente assolutamente trato sul sito www.proitalia.org troverete ovviamente tutte le informazioni su di noi i nostri contatti il nostro statuto il nostro manifesto i nostri articoli i nostri eventi tutto ciò di cui avete bisogno anche la campagna mitica a favore di Fleximen per la raccolta fondi per difendere Fleximen in sede legali e ovviamente anche le informazioni sulla nostra scuola politica Metis che sta andando alla grande e che è veramente una delle punte di diamante del nostro della nostra azione politica e ovviamente per sostenerci se ci volete dare una mano c'è la sezione apposita con cui potete tranquillamente insomma darci una mano con un click oppure partecipare direttamente a ProItalia cioè ecco scusate perché il proprio schermo è stata l'altra parte della schivania eccolo qua potete andare sulla sezione partecipa compiliare questo form per venire ricontattati fare due chiacchiere e segnalare la vostra presenza sul territorio quindi come vedete il sito è ben organizzato per rispondere a tutte le vostre domande io chiudo giusto testa scura dice sì però gli inglesi hanno più latinisti che germanisti certo perché c'è più da imparare mica sono stupidi no vabbè ma è ovvio che gli inglesi nei confronti di Roma abbiano questo rapporto no di odio e tamo ovviamente detestano non essere riusciti ad arrivare a quel livello ma hanno una grande come dire vorrebbero hanno studiato molto Roma e non l'hanno capita perché hanno perso le colonie americane in maniera ridicola comunque dai detto questo grazie per essere stati con noi in questa diretta speriamo di avervi allietato per più di un'ora e mezza per parlare di Europa guerra Russia e resto del mondo e a questo punto ci vediamo giovedì prossimo giovedì sera prossimo con un nuovo argomento nuovi ospiti e insomma un altro po' di tempo da passare insieme Ludo volevi aggiungere qualcosa rivedo che sei assolutamente no buonanotte a tutti buonanotte a tutti speriamo che la mezzanotte sia abbastanza lontana buonanotte grazie a tutti